Io ti rispetto è il titolo e slogan dell'iniziativa ideata dalla CGL, l'ideale proposto da 5 istituti fiorentini che scendono in campo contro la violenza nel calcio e lo fanno fisicamente nell'abitat ideale di Coverciano dove l'entusiasmo delle giovani speranze si trasformano in sogni dalle fattezze reali. Lo sport positivo, cioè pulito, senza falli, con fair play. In Italia soprattutto ci sono stati molti gli interventi che sono stati fatti per tenere buono il tifo negli stadi e il tifo non deve essere leale e non deve essere soprattutto razzista. Qual è il vostro pensiero? Cioè di tifare correttamente ed è più divertente se tifiamo. Il fair play è amicizia tra gli avversari, rispetto per gli avversari e anche per il pubblico, anche per chi ti guarda, sia in televisione che allo stadio. Le idee prodotte in classe si sono trasformate in filmati, canzoni, pensieri in libertà che pongono al centro il famoso fair play, valore che visto con gli occhi dei ragazzi risulta missione possibile sia fuori che dentro il campo. Bisogna cercare di migliorare e per cercare di migliorare bisogna insegnare soprattutto a questi ragazzi giovani il modo di comportarsi. E come di tutte le immagini del nostro paese c'è un'immagine stereotipata che ci fa peggio di come siamo. In realtà questi giovani ci dicono c'è una grande speranza per il domani. Rossi contro bianchi, ragazzi in campo al fianco delle donne, squadre schierate a classi miste e a vincere. È stato lo sport. Il fair play può essere diciamo lealtà, come vedessi, la traduzione è lealtà. Sei abbastanza fair play? Sì, no, sì, abbastanza. Io penso di sì, lo spero almeno perché è anche meglio a vedessi lo sport pulito.